Ciao, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Latte, le uova, bistecche, verdura. Quello che manca nella consuetudine è di vedere finalmente firmate le fotografie, non le firma nessuno. Ma che peccato però, io non so te, però personalmente se leggo un libro di un autore che mi piace, io voglio sapere chi è con l'autore, perché poi vado a ripescarmi il resto delle cose che ha scritto e le leggo molto volentieri. O se c'è della musica, della musica bella, adoro quelle radio che lo fanno e non lo fanno in tante, però che introducono un brano musicale e poi se arrivi un po' tardino, anche quando è finito te lo disintroducono, ti dicono chi era il gruppo o l'artista e così te le vai a ribeccare. Invece in fotografia no, non è consuetudine. Ma che caspita vuol dire che non è consuetudine? Ok, la consuetudine non è una cosa immutabile che ci troviamo lì pronta in frigorifero da usare com'è. La consuetudine è l'effetto delle cose che facciamo noi, delle azioni che compiamo noi. Allora è per questo motivo che se ci sono dei giornalisti che dovrebbero fare informazioni e non lo fanno, se ci sono dei portali che dovrebbero dare indicazioni e non le danno, beh chiediamole noi. Allora, se ci interessa, e ci interessa sapere chi ha fatto delle cose belle, perché vogliamo ancora rivedere quelle cose belle, possiamo sapere chi è l'autore, e chiediamolo, si scrive, si prendono i dati dai colofon della rivista, si trovano i dati nei contatti del portale. Ci vuole un minutino, ma stai perdendo più minuti adesso a cazzeggiare su YouTube per vedere questi video di quello che occorrerebbe per scrivere un'email. E indipendentemente dal fatto che tu sia un fotografo professionista, e quindi chiaramente ci tieni, oppure un amatore, ci tieni anche per quello, ma anche se sei una persona che vuole capire, che vuole capire quello che è attorno, chi ha fatto cosa, perché, da dove ritrovarlo ancora, e non stare lì con una scamorza a aspettare che venga applicata la consuetudine che altri hanno deciso, beh, in tutti questi casi scriviamo, scriviamo in tanti. E quando passerà a questi comunicatori la sensazione, la percezione, perché le cose stanno così, che interessa sapere chi ha fatto qualcosa di bello, che è quindi l'autore delle immagini, beh, quando passerà queste informazioni, allora le cose cominceranno a cambiare. E possiamo farle cambiare, possiamo fare cambiare le consuetudini. Ciao. Ah, una cosa, magari fallo sapere anche ad altri, dirò anche ad altri. Ciao.